Il progetto Voce ci interessa perché così come è stato costruito, dà l'opportunità di avere un contenitore all'interno del quale le persone che possono avvicinarsi al volontariato hanno le opportunità di scegliere. È un palinsesto di opportunità che si estende sul territorio della città di Milano. Questo per noi è molto interessante, noi siamo i primi a voler promuovere l'associazionismo e in special modo il volontariato, proprio per le caratteristiche sociali che comunque esercitiamo. L'altra cosa importante è di farlo sul territorio di Milano, è un territorio sempre complesso, Milano è una città estremamente dinamica, per questa sua dinamicità probabilmente alcuni fattori sociali, alcuni problemi che i lavoratori, le famiglie dei lavoratori, i pensionati, donne, uomini, per cui cerchiamo di coprire tutto quello che è l'aspetto della cittadinanza, la persona, gli immigrati che sono i nuovi cittadini che vengono nella nostra città, proprio per il fatto di questo dinamismo abbiamo l'interesse di andare a coprire i nuovi problemi, nuovi problemi che magari non rappresentiamo direttamente noi ma tramite il volontariato possiamo rappresentare dal punto di vista politico e dare una soluzione tramite il volontariato. Per cui un progetto di questo tipo è sicuramente importante, siamo veramente favorevoli e appoggiamo il progetto. Il fatto che le organizzazioni sindacali vengono coinvolte in questo progetto è veramente un'ottima idea.